Da Giuseppe Neazze in San Siro, Inter Roma Snyder, prova a cambiare tutto, c'è Maicon, Parisi a chiuderlo, buona l'apertura Eccolo Maicon, ancora per Snyder, cerca il sinistro, Wesley! Snyder, 1-0 Borriello, dribbling, in area di rigore, Borriello la porta sul sinistro Grande Veronica di Bucinic che arriva quasi in zona tiro, c'è Cassetti a destra, Bucinic lo vede Ecco il pallone per Cassetti che fa dentro, Fabio Simplicio, 1-1 Borriello Fuori per Menes, poi Borriello, Giulio Cesar con due miracoli, ancora Menes, ancora Giulio Cesar Sanetti l'ha visto, cerca però Eto'o, più vicino a lui, scarico su Snyder Trova in destra, Giulio Sergio Arriva Snyder, a sostegno, dentro per Eto'o, arriva anche Maicon, Eto'o uno contro uno Dentro c'è Pazzini, ancora Eto'o in area di rigore, vuole in destra, Eto'o fa che in sinistro Eto'o! Eto'o! Snyder, prepara il tiro, lo piazza, Giulio Sergio in due tempi Dentro per Pazzini, posizione regolare, Pazzini in area di rigore, fallo di curtisso Calcio di rigore, e Rosso Samuele, Eto'o! Uomo libero a sinistra, Eto'o, Snyder sale fuolo sempre sulla corsa E' ancora rallentato, e poi c'è Pazzini dalla parte opposta E' per Pazzini, Giulio Sergio Snyder, forte e teso sul secondo pallo, Eto'o! Iago, Motta, 4 a 1 Bande Rossi, deviazione, Mirko Pucinic, 4 a 2 Polone verso Loria, stacca Juan Polo, poi Loria, Simone Loria, 4 a 3 Cambiasso, la mette giù, Cambiasso Recuperato da Taddei, passa lo stesso, Cambiasso Dentro, poi Eto'o! Giulio Sergio, e se la mangia, Milito Ballone per Eto'o, ma Taddei che sta correndo ovunque a cercare di chiudere Eto'o lo sfida Trevare di rigore, Eto'o ancora, Eto'o, Giulio Sergio, poi Juan Sanetti, Cambiasso, Cambiasso E se va! Cambiasso, 5 a 3 Cambiasso, 6 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 a 3